Attrazione fatale tra il nome degli Alvaro, galassia di famiglie dell'Andrancheta del Regino e la capitale, dove sono da decenni per fare affari, stringere rapporti con i piani alti della politica, condizionare appalti. Stavolta le indagini della DIA e della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura Antimafia di Roma, provano l'esistenza di una locale, una struttura che raccoglie più ndrine, più famiglie nella capitale. Gli Alvaro di Cosoleto, quelli di Sinopoli, dranghetisti di altre famiglie e comuni calabresi, ma anche romani. E non mancano diversi professionisti, indispensabili per operazioni economiche della locale. 44 arrestati in tutto. Condizionavano molti settori commerciali, da quello ittico, del pane, alle pasticcerie e bar, alla ristorazione. I capi della locale, Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, avevano un filo diretto con la casa madre di Cosoleto, in Calabria, dove sono state arrestate altre 34 persone, tra gli altri il sindaco Antonino Gioffre, al termine di una parallela inchiesta della Procura di Reggio. La locale di Roma è la seconda, ufficialmente indicata come tale dalla Procura in Lazio, dopo quella di Anzio e Nettuno, scompaginata con 65 arresti dai carabinieri due mesi fa.